guida rapida smart tv come attivare blocco ingressi le tv lg consentono di bloccare gli ingressi hdmi questo significa che richiederanno una password per potervi accedere per utilizzare la funzione di blocco degli ingressi premi il tasto impostazioni sul tuo telecomando vai a tutte le impostazioni generali sistema sicurezza qui troverai blocco ingressi quando lo selezioni la tua tv ti chiederà di inserire la password di quattro cifre preimpostata su quattro volte zero se non l'hai modificata una volta inserita la password sarà in grado di bloccare tutti gli ingressi o singolarmente per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito grazie per la visione ciao 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 ciao